ragazzi finalmente dopo una giornata assenuante di lavoro sto tornando basta filmiamo la botta più notti basta vediamo dove è il conte chi ha convinto sii come che palle come che palle chissà è l'accoglienza che palle è venuta la mia ex moglie vero facci sto caffè a me niente vabbè amore poi tu faccio il caffè ma che è di chi sono questi pacchi ci sono dei biglietti grazie per la vostra compagnia serale siete entrati nella nostra famiglia e nei sorrisi di sofia che si diverte tanto nel vedervi e sentirvi salutare nelle vostre live la rende felicissima buona pasca vi voglio bene da sofia sofia e nadia sofia è quella piccolina che quando ci sente che ride ma chi un pacchi unicono pacchiurante eeeh ancora perché la mia ex moglie chi da fa le cose in grandi scelto ma non rompere un lampadario però la cattare cadia si proprio cadia comunque ora ma per chi tu fa cattare cinzia già sta cominciando a ricattare hai scoperto domani l'epilogo perché hai scoperto domani la devo seguire tutta la giornata se ci vuoi venire ci vedi non ti stai a casa ti vuoi finire ma poi la vuoi seguire per ricattarla alla fine no poi io non ci dico nulla eh poi la faccio parlare vabbè vabbè dai intanto apriamo poi a cinzia ci pensiamo vediamo scelto aspetta la cattata ragazzi sta con chi sta finendo c'è un altro scatolo dentro mamma mia su su Nadia ho un bacchetto a schifo questo al contrario ci sono due uova che bella che bella che bella questo è il mio che dolce gabbana è il mio grazie D&G l'anno prossimo farò le uova a Z bella grazie e questo e questo sarà sempre mio sempre dolce gabbana se dolce gabbana è il mio sempre dolce gabbana amore e passione questo è film mia no no tu non sei cosa di robbi filmati io sono amore e passione ma come sono fondenti al latte com'è questi sono ah limited edition buoni questi sono baci ragazzi guardate grazie grazie ciao Sofi ciao Sofi ce li hai mandati tu e la mamma tua Sofi e Nadia grazie comunque ragazzi vi ricordo che noi tra poco saremo in live su facebook alle ore 20 e 30 sicuro che facebook ah no ti tocco hai ragione tra poco su tiktok parte